salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come avrete capito dalla location e dall' attrezzatura che sto indossando oggi si torna a recensire un drone e lo si fa recensendo il miglior drone 249 grammi per rapporto qualità prezzo sì perché lui è sicuramente il miglior drone con queste caratteristiche prezzo prestazioni come avrete intuito dal titolo il drone di cui vi sto parlando è il film x8 mini v2 questo drone che filmi ha rilasciato in questa versione v2 perché come sapete ormai filmi ci ha abituato che non cambia totalmente i droni da un'uscita all'altra ma fa queste versioni v2 dove va a correggere e migliorare tutto quello che non andava bene nelle versioni precedenti quindi con queste versioni v2 lui mantiene un prezzo sicuramente interessantissimo ed è questo un aspetto da non sottovalutare andando però a migliorare appunto quello che comunque era già un buonissimo drone 249 grammi appunto in quella fascia di prezzo sì perché questo film x8 v2 oltre che essere venduto su amazon e questa è una novità che ho portato anche qua sul canale che vende direttamente filmi su amazon quindi il drone acquistato direttamente da filmi su amazon e poi spedito da amazon con tutte le sicurezze le garanzie e tutto quello che riguarda appunto l'ottimizzazione data da amazon per i suoi clienti però ovviamente il prezzo è un pochino più alto che se dovessimo acquistarlo direttamente dal filmi store comunque qua sotto vi lascio in descrizione i link sia di amazon italia per acquistarlo che acquistarlo direttamente dallo store filmi in cina i prezzi ovviamente non sono gli stessi anche perché recentemente avevo postato nel mio canale telegram offerte un coupon sconto che dava la possibilità di acquistarlo a 260 dollari ragazzi 260 dollari un drone con queste caratteristiche e prestazioni è davvero tanta tanta roba quindi capite il senso del rapporto qualità prezzo che vi stavo dicendo prima ma prima di andare a vedere tutte le sue caratteristiche i suoi miglioramenti che ha ricevuto in questa versione v2 direi di fare un veloce unboxing lui lo guardiamo dopo troviamo i manuali di istruzioni i soliti che sono all'interno delle confezioni dei droni fimi dopodiché troviamo un sacchettino dove all'interno abbiamo i tre cavi per collegare gli smartphone quindi type c lighting type c type c e type c micro usb più cacciavite eliche di ricambio dopodiché abbiamo il controller che rimane identico alla versione precedente tranne che per la trasmissione che adesso ha una versione 3.0 del sistema reoc link ed infine troviamo lui il fimi x8 mini v2 il drone rimane esteticamente uguale tranne che per un particolare che vedremo dopo quando lo andremo a provare e per il resto ragazzi il drone è bello bello come lo era già il suo fratellino precedente ed eccolo qua il fimi x8 mini v2 le sue caratteristiche principali rimangono invariate lui un drone 249 grammi nella versione pro cioè con la batteria pro perché poi c'è una versione con la batteria è un po più pesante che gli dà più minuti di volo ma che ovviamente non lo fa rientrare nei 249 grammi allora rispetto alla versione precedente cos'è cambiato è cambiato il sistema satellitare questo importantissimo adesso agganciamo addirittura quattro tipi di sistemi satellitari gps glonas beidu e galileo quindi abbiamo veramente un'ampia costellazione di satelliti che possiamo andare ad agganciare questo ci dà innanzitutto un numero incredibile di satelliti che gli permettono di avere un volo preciso sia nel return to home che nella stabilizzazione che in quello che sono i voli automatici ma poi questo ci permette anche di agganciare satelliti in zone in cui magari siamo un po coperti dagli alberi dalle piante dalle montagne cioè queste situazioni un po più particolari lui riesce comunque ad agganciare i satelliti veramente fantastica questo miglioramento per quanto riguarda i satelliti soprattutto anche la velocità nell'agganciare il numero diciamo minimo di satelliti per volare in sicurezza adesso è velocissimo poi per quanto riguarda invece la fotocamera è stata migliorata la fotocamera quindi un'ottimizzazione di quella precedente niente di stravolgente abbiamo sempre un sensore di 1 su 2.5 pollici e poi è stato migliorato il gimbal o meglio è stato ottimizzato il gimbal quindi adesso reagisce in maniera più ottimale rispetto alla versione precedente poi per quanto riguarda invece l'aspetto estetico è rimasto praticamente invariato a parte queste feritoie qua laterali che abbiamo da tutte e due le parti vedete nella versione precedente non c'erano perché? perché dentro è stato cambiato quello che è il cervello del drone quindi adesso ha un sistema di calcolo molto più veloce con intelligenza artificiale ottimizzata quindi tutto quello che riguarda i voli automatici l'active track adesso lo fa più in scioltezza perché abbiamo un sistema di calcolo molto più performante però ovviamente come sapete più le prestazioni delle parti elettroniche sono importanti più tendono a scaldare quindi sono state aggiunte appunto queste feritoie laterali per tenere raffreddato il drone e avere le temperature sempre ottimali poi per quanto riguarda i minuti di volo adesso abbiamo 31 minuti di volo con le batterie che lo fanno rientrare nei 249 grammi ovviamente i 31 minuti di volo come tutti i droni è un calcolo che viene fatto con tutte le condizioni meteo ottimizzate e anche come si utilizza il drone in determinate caratteristiche ma questo per qualsiasi marchio di drone è sempre il limite massimo di utilizzo in minuti con situazioni veramente perfette poi come ultimo aggiornamento è il sistema di ritorno video nel senso che come sapete Fimi utilizza il Rocklink un sistema proprietario di trasmissione video e adesso è stato introdotto anche in questo Fimi X8 Mini V2 la versione di terza generazione quindi abbiamo un ritorno video che arriva fino a 9 km quindi capite che è tanta tanta roba con una qualità davvero notevole se calcoliamo che questo drone rientra in una fascia di prezzo davvero molto molto interessante per quanto riguarda invece la qualità video abbiamo sempre in 4K a 30 fps praticamente le stesse caratteristiche che avevamo nella versione precedente però più ottimizzata come abbiamo detto la qualità della fotocamera non è stato cambiato nulla ma ottimizzato e poi un altro miglioramento che c'è stato non per quanto riguarda il drone ma per quanto riguarda l'applicazione Fimi Navi Mini l'applicazione dedicata per far volare questo drone che con l'ultimo aggiornamento ricevuto qualche giorno fa adesso ha anche la lingua italiana sembra una stupidata ma avere tutto il menu in italiano fa la differenza quindi è sicuramente un altro aspetto positivo che per noi italiani è piacevole avere tutte le opzioni tutte le informazioni in italiano quindi un altro piccolo aspetto che però fa sicuramente piacere a noi che utilizziamo appunto la lingua italiana quindi questo è tutto quello che è cambiato per quanto riguarda questo piccolo drone 249 grammi ma a questo punto direi che è arrivato però il momento di testarlo e di vederlo in azione quindi decolliamo ok il drone è pronto l'applicazione come vedete in italiano anche il menu come vedete in italiano quindi veramente tanta roba guardate i satelliti ne abbiamo già 21 l'ho praticamente appena acceso è un altro miglioramento che c'è stato con tutti i vari aggiornamenti app e drone che adesso finalmente quando andiamo ad impostare nelle impostazioni della videocamera qualità alta per quanto riguarda appunto le registrazioni video e anche per quanto riguarda le impostazioni delle foto quando spegniamo il drone e lo ricolleghiamo rimane tutto come abbiamo lasciato mentre prima fino a poco tempo fa qualsiasi drone Fimi tornava con impostazioni medie mentre adesso rimane tutto come l'abbiamo impostato all'ultimo volo per quanto riguarda appunto quello che erano i parametri della fotocamera e questo secondo me è un altro passo avanti che dava veramente molto molto fastidio quindi siamo pronti abbiamo in questo momento 23 satelliti pronto per volare direi allora di decollare facciamo partire la registrazione video accendiamo i motori e decolliamo ecco qua il nostro Fimi X8 Mini la stabilizzazione secondo me ottima anche perché comunque un altro miglioramento c'è stato da questo punto di vista perché i sensori sotto sono stati ottimizzati anche quello è una cosa che mi sono dimenticato di dirvi all'inizio e poi ovviamente con tutti questi satelliti che gli rimbalzano il segnale ragazzi la stabilizzazione è davvero fantastica allora visto che ho comunque ho solo una batteria direi di non perdere tempo e di iniziare a fare qualche test quindi vai verso l'orizzonte ed oltre ok guardate la qualità del ritorno video secondo me è veramente ottimale siamo a una distanza di 70 metri adesso siamo vicini comunque però direi che per quanto riguarda il ritorno video è fantastico adesso mi sposto un po' da questa parte e andiamo verso la collinetta era un po' che non veniva a fare qualche test di drone e sono contento di essere ritornato siamo a 250 metri guardate la fluidità del ritorno video adesso mi muovo apposta un po' a destra a sinistra muovo il gimbal guardate la fluidità comunque del ritorno video abbiamo detto che abbiamo il nuovo sistema Rocklink 3.0 per quanto riguarda appunto la qualità video saliamo di quota abbiamo adesso addirittura 28 satelliti volevo andare attivare nelle impostazioni quello che è l'atterraggio di precisione così poi vediamo come si comporta sul landing e adesso direi di ritornare quindi ci giriamo torniamo verso di noi vedete lì quella H gialla che ci indica sempre la nostra posizione è stata un'altra novità introdotta da Fimi con i vari aggiornamenti app e firmware ecco lo che sta arrivando quindi questo è quello che è la qualità video adesso però mi giro e volevo farvi vedere a scattare qualche foto quindi proviamo a scattare una foto così mi giro un po' da questa parte e ne scatto un'altra perfetto adesso mi giro da questa parte e ne scatto un'altra così avete un'idea anche della qualità delle foto allora a questo punto ritorniamo in modalità video e torniamo verso di noi ok è esattamente vicino a noi scendo così che possiamo provare qualche volo automatico direi che il primo che possiamo provare è l'active track che sicuramente è una cosa interessante da provare perché come abbiamo detto c'è stato un miglioramento per quanto riguarda appunto il processore di calcolo che gli permette di fare tutti i voli automatici eccolo qua sta arrivando facciamo venire vicino a noi entriamo nei voli automatici e proviamo a fare un bel active track allora tracciamento intelligente traccia vedete che lui rileva tutto quello che potrebbe andare a tracciare ovviamente vado a evidenziare la mia figura a questo punto vado a fare go con i droni fimi e appsan bisogna avere un'altezza minima se no non parte l'active track bisogna avere un'altezza minima che è di 5 metri come vedete altrimenti l'active track non parte non parte non vi dà il consenso quindi a questo punto direi pronti partenza via chi ha visto la versione precedente di questo drone sa benissimo che l'active track non era uno dei suoi punti di forza perché comunque è il processore non gli permetteva un calcolo veloce quindi perdeva quello che era il soggetto mentre qua vedete che è tutta un'altra storia qua il soggetto è sempre inquadrato e lo fa in maniera ottimale appunto perché abbiamo un processore di nuova generazione che gli permette appunto di fare questi voli automatici quindi questo miglioramento sicuramente super importante per quanto riguarda questo drone dove l'attività che funzionava se si camminava ma in bicicletta era veramente impossibile quindi andiamo ad interrompere quello che appunto questo active track quindi andiamo a cliccare sulla x ok abbiamo interrotto l'active track adesso direi che possiamo fare un orbita quindi vado a spostare il drone ok ed ecco qua che inizia a fare l'orbita quindi abbiamo il drone che si comporta secondo me in maniera veramente fantastica guardate come la fa bene e la qualità del ritorno video come rimane molto molto fluida anche in queste situazioni quello che non succedeva con la versione precedente adesso lui continua a girare all'infinito e dovete voi andare ad interrompere quello che è l'orbita e soprattutto dovete andare a se volete andare anche a regolare la velocità che io ho impostato più o meno a metà vado a fare x quindi vado ad interromperla poi sicuramente un'altra funzione interessante che ha questo drone è la possibilità nei voli automatici del punto di interesse quindi potremmo andare a creare dei punti di interesse quindi avremo la possibilità di creargli un volo automatico dove fargli fare determinate funzioni ed è ragazzi veramente interessante possiamo programmarlo con il drone spento quindi con andandolo a programmare nella mappa nel punto in cui poi andremo a volare o addirittura farlo in volo vedete in questa posizione io potrei andare ad aggiungere determinati punti per fargli fare determinati voli quindi veramente fantastica questa funzione non ve la sto a far vedere perché non ho abbastanza batteria altrimenti non riuscirei a finire il test però queste cose già le faceva la versione precedente se andate a cercare nel mio canale trovate come lui gestiva appunto questa funzione e calcolate che questo lo fa meglio perché comunque come abbiamo detto ha un'intelligenza migliore allora a questo punto direi che come ultima prova potremmo andare a fare un bel ritorno a casa ci allontaniamo e poi vediamo col ritorno a casa cosa in grado di fare rispetto al landing quindi andiamo a altezza di quota di almeno un 70 80 metri perfetto e ci allontaniamo così poi vediamo anche la qualità video intanto continuiamo a vedere ovviamente non mi allontanerò tantissimo perché comunque ho il 31 per cento di batteria non vorrei rischiare di andare a combinare un patatrac comunque l'acca dentro nel display mi piace molto questa nuova cosa introdotta da fini allora siamo a 180 metri siamo quasi a 200 continuiamo ad allontanarci perfetto vedete che ci dice che la batteria scarica parla anche in italiano adesso un'altra cosa che mi ho dimenticato di dirvi quindi vado ad attivare il return to home premendo il tasto qua sul radiocomando o anche quello che abbiamo all'interno dell'interfaccia dell'applicazione comunque adesso oltre che avere tutto il menù italiano parla anche in italiano una cosa che mi ero dimenticato di dirvi all'inizio quindi ci ha avvisato che la batteria è scarica di ritornare adesso vediamo rispetto al landing cosa è in grado di fare vado a spostare la bicicletta così che non gli crei stress psicologico e vediamo come si comporta allora sta arrivando esattamente sopra di me vado ad abbassare la telecamera così vediamo come vede il landing allora in questo momento in teoria non è centratissimo è vicino perché comunque è nella area da cui è decollato sicuramente però vediamo se poi vede il tappetino e inizia a spostarsi o se invece atterrerà un pochino più spostato vediamo perfetto vedete che si sta spostando perché ha visto il tappetino quindi un pochino si è spostato vediamo se si sposta ancora si vedete che si sposta vediamo se adesso continua a leggere il tappetino e si sposta ancora un po' se invece si guardate si sposta ancora adesso lo legge totalmente e guardate perfetto atterraggio perfetto è appena sceso qua perché è scivolato giù ma era praticamente sopra solo che il pad non era proprio in piano e l'ha fatto scivolare un pochino verso l'erba però era sopra perfetto avete visto che era spostato di quasi un metro e mezzo rispetto al pad poi quando arriva una determinata altezza legge il pad con ovviamente la telecamera che ha sotto di lui e utilizzando appunto quella telecamera va a leggerlo e va a spostarsi gradatamente fino andare a centrare il pad è veramente una funzione fantastica comunque di film che ha introdotto parecchio tempo fa ma che comunque continua ad utilizzare funziona veramente molto molto bene peccato che il padre era un po in pendenza e il drone con le eliche accese e scivolato giù ma era precisamente sopra al padre soprattutto avete visto dall'applicazione come lui si è spostato proprio di tanto quando ha iniziato a leggere il pad perfetto riecco qua il film x8 mini di due allora l'ho provato praticamente in quello che sono state i suoi miglioramenti principali perché ovviamente tutto non potevo farvi vedere anche perché innanzitutto video sarebbe diventato lunghissimo e già è lunghissimo sarebbe diventato stralungo e poi le altre cose sono rimangono uguali alle precedenti quindi quello che faceva prima nella versione v1 fa qua ancora meglio vi ho fatto vedere quello che sono stati i cambiamenti quindi la fotocamera che è migliorata il ritorno video che è migliorato rispetto alla versione precedente l'applicazione che adesso in italiano abbiamo visto anche l'rth di precisione abbiamo visto l'overing che è sicuramente migliorato rispetto alla versione precedente dove comunque si aveva un overing molto ballerino non era un overing impeccabile qua adesso invece abbiamo abbiamo visto un overing veramente notevole e poi abbiamo visto quello che è l'active track che era un suo punto debole perché quella bicicletta era impossibile fare un active track tendeva sempre a perdere il soggetto qua anche contro sole perché comunque non so se avete visto ma penso di sì dal video quando andava anche contro sole non mi ha perso minimamente quindi c'è stato veramente un miglioramento notevole per quanto riguarda appunto l'intelligenza di questo drone che adesso riesce a gestire i calcoli per tenere inquadrato un active track anche fatto con la bicicletta e non solo a piedi poi abbiamo visto un orbit giusto per farvi vedere un volo automatico ma era qualcosa che già faceva anche prima nel senso niente di più niente di meno quelle cose le faceva bene prima le fa bene adesso magari un pochino più preciso nel farlo perché appunto come abbiamo detto a un sistema di calcolo migliore soprattutto a tanti tanti satelliti come avete visto la quantità di satellite adesso è infinita e soprattutto gli aggancia velocemente e gli aggancia in qualsiasi posizione perché abbiamo addirittura quattro sistemi satellitari che lui in grado di agganciare quindi queste piccole cose che vi assicuro che in un drone fanno la differenza fanno tanta differenza in un drone che vuole essere di un determinato tipo e di una determinata sicurezza quando è in volo quindi ragazzi la mia opinione è che questo a oggi è sicuramente il miglior drone 249 grammi per rapporto qualità prezzo è veramente pazzesco soprattutto se lo andate ad acquistare appunto nello store fimi comunque vi lascio qua sotto il link in descrizione rimane ad un prezzo secondo me veramente super competitivo mi sembra che oggi è 280 dollari come ho detto ho postato anche dei coupon sconto che lo portavano a 260 sul mio canale telegram offerte dove vi invito ad iscrivervi per appunto non farvi scappare nessuna di queste offerte e poi se invece non volete acquistarlo dalla cina avete paura acquistarlo dalla cina anche se lo acquistate direttamente da fimi e non è uno store alternativo è fimi store però magari uno dice no ma io dalla cina ho paura che poi nel viaggio si perda tutte queste cose che uno giustamente può mettere in conto allora a quel punto potete acquistarlo sullo store fimi che è all'interno di amazon con tutte le garanzie e coperture date da amazon però il prezzo ovviamente è più alto non c'è niente da fare con tutte le tasse e il discorso di avere comunque un magazzino all'interno di amazon fa alzare il prezzo che è di circa 350 euro quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione e la mia prova di questo drone 249 grammi il migliore sicuramente per rapporto qualità prezzo il fimi x8 mini v2 vi è piaciuto l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tanti novitanti prima spoiler anche di lui erano arrivati degli spoiler ovviamente sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni ma tutta la tecnologia in generale quindi tantissime offerte con coupon dedicati per abbassare ulteriormente i prezzi ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un testo un tutorial o novità ciao e al prossimo video